Operazione dei NAS di Salerno sul territorio della Piana del Sele. Nell'ambito sanitario, i militari del Nucleo hanno scoperto a Battipaglia uno studio di radiologia che erogava prestazioni di diagnostica per immagini in ambienti privi dei requisiti strutturali minimi previsti dalla normativa regionale. Immediata la sospensione delle pratiche sanitarie. A Debole, invece, un dentista aveva attivato uno studio odontoiatrico in una struttura di circa 80 metri quadrati, attrezzato per le prestazioni fornite ma non autorizzato. Anche in questo caso si è reso necessario il sequestro di tutto lo studio e delle relative attrezzature.